Poi nel centrodestra ci siano delle posizioni diverse, per esempio, ora tu parlavi del tema delle sanzioni, quando ci siamo interrotti sulla pubblicità, dicevi le sanzioni solo alla Russia, Salvini pone questo problema. Però se quello che al momento è il partito di maggioranza, che è Fratelli d'Italia, ti dice che le sanzioni alla Russia non si toccano, allora poi in termini politici, il programma del centrodestra cosa prevede al riguardo? Le posizioni del centrodestra sono molto chiare nella limpida indicazione della Meloni, che non vuole essere messa nell'angolo come se avesse una posizione filoputiniana. Sono evidenti anche in Forza Italia, nonostante l'amicizia per Putin che viene riproverata a lui, ma che non corrisponde a quello che ha dichiarato in questa fase in maniera molto forte, e invece vedono una figura più incerta, ma non certamente per filoputinismo, nella visione più pragmatica di Salvini, che è quella di Antonio Martino, che è quella di cui parlava Tria, che è quella di non stabilire una volontà di essere in guerra con una ragione che potrebbe essere portata all'ordine del giorno, secondo quello che ci indicano personalità come Moni Ovadia, come Santoro, come tanti che non sono dei fanatici. E cioè che l'Italia ripudia la guerra, non puoi dare 15 miliardi di armi perché la guerra continui. Occorre stabilire che il Papa ha dato un'indicazione importante, la pace si persegue per via diplomatica, non dando 15 miliardi e poi sottraendo agli italiani energia e danari per vivere una condizione di minor disagio. Questo è il dato di fondo. Quindi possiamo dare viveri medicinali, soccorso, ricostruzione, ma perché armi? È un tema che non sono mai stato pacifista, ma che pone in evidenza che c'è una grande contraddizione. Questa contraddizione Salvini avrà diritto di rappresentarla per una parte degli italiani, che sono per la pace e contro le sanzioni. Mentre io ti parlavo di quello che ha fatto l'America, il mio operatore che è qua mi dava ragione, è una persona semplice, me lo dava prima Sanzonetti. Cioè dire, gli americani hanno fatto cardia di porco, hanno fatto guerre ovunque e noi non ci siamo posti in problema delle sanzioni. Quell'altro ha fatto un errore grave, occorre andare a misurare le sanzioni con il rischio del danno che gli facevamo noi stessi, esattamente come fa la Svizzera, che prima ricordavo perché le banche svizzere gestiscono 150 miliardi di dollari di clienti russi e certo non li mettono in condizioni di disagio. Dobbiamo farlo noi? Siamo più coglioni degli svizzeri che pure sono nostri vicini? È chiaro che puoi prendere la posizione contro la guerra senza buttare danaro in armi e lo dico su una posizione civile che è contro la guerra. Quindi non dobbiamo essere noi ad alimentarla la guerra, dobbiamo essere noi ad aiutare il popolo ucraino e seguire le indicazioni del Papa. Avrà diritto Salvini di avere questa posizione? O deve per forza dire no? Mi allidio con gli americani, con un fesso come Biden. No! No! No, no!